Fortuna, udienza chiave sulle accuse delle bimbe davanti ai giudici, le psicologhe della casa famiglia che ospitano le amichette della bambina che fu violentata e uccisa nel parco verde di Caevano, in aula anche la pediatra che aveva in cura la vittima. Almaviva è il futuro appeso ormai a un filo, niente intesa sull'odo proposto dal ministro Calenda, sindacati e aziende ancora lontane si va avanti nelle trattative davanti al Mise, dipendenti sfiduciati in arrivo a 2.500 licenziamenti. Su luci d'artista, De Magistris sbaglia, da Salerno il presidente della Commissione Cultura Guerra, replica l'attacco del sindaco di Napoli, la rassegna delle luci, un evento internazionale sbagliato a polemizzare solo per contestare De Luca. Maria sei mesi dopo è ancora un giallo, nessuna svolta nelle indagini sulla morte della bambina rumena di 9 anni che il 19 giugno scorso venne trovata senza vita nella piscina di un agriturismo a San Salvatore Telesino, il mistero è sempre fitto. Ente idrico, regge il centro-sinistra, centro-destra battuto ma di poco, finisce 16 a 14 la partita delle nomine nell'ambito Irpinia-Sagno, la maggioranza dei 30 membri dell'organismo va alla compagine PD-NCD. Pestum, videoarte sul Tempio di Nettuno, luce e suoni per animare i templi, da domani al 31 dicembre proiezioni serali sulle colonne e sulla facciata del monumento, ispirati al mito e alla storia della colonia greca. Eccoci, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Otto Channel. Le inapertura, l'udienza di questa mattina sul caso della piccola Fortuna, un'udienza chiave, quella che è iniziata oggi al Tribunale di Napoli per il caso di Fortuna Loffredo che è stata violentata e uccisa nel Parco Verde di Caevano alla sbarra per questa quarta udienza del dibattimento. Raimondo Caputo, che dopo aver compiuto le violenze avrebbe scaraventato la piccola dal terrazzo del palazzo. Con lui sotto accusa anche l'ex convivente Marianna Fabozzi, che l'avrebbe coperto anche rispetto alle violenze subite dalle sue figlie. E sono state proprio le testimonianze delle bambine, amichette della piccola Fortuna, ad incastrare Caputo. Oggi davanti ai giudici del Tribunale di Napoli, le tre psicologhe della casa famiglia che ospitano le tre bambine e la responsabile della struttura. In aula anche la pediatra, la dottoressa Linda Ferrara, che aveva in cura Fortuna, la quale interrogata dal procuratore aggiunto Domenico Airoma, ha dichiarato che nel corso delle visite Chicca non aveva manifestato disturbi o sintomi che facessero supporre di essere vittima di abusi sessuali. Eppure nella precedente udienza il ginecologo aveva parlato di scempio inaudito. I carabinieri dei NAS di Roma, supportati da militari dei NAS del Comando Provinciale di Napoli, hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare, una in carcere e tre ai domiciliari, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, oggetto del provvedimento gli appartenenti ad un'associazione criminale finalizzata alla truffa aggravata, in danno del servizio sanitario, ricettazione e falsificazione di ricette al fine di rifornirsi illecitamente di medicinali da rivendere al mercato illegale. Il sistema era gestito da un sodalizio partenopeo. E veniamo al delitto di Chiaia, il DNA non mente, ore contate per il killer dell'ingegnere. Ieri i test degli inquirenti conoscono il corredo genetico dell'assassino. Vediamo. L'omicidio di Vittorio Materazzo, l'ingegnere di Viale Maria Cristina di Savoia, ucciso con 35 coltellate, è a una svolta. Investigatori inquirenti hanno tra le mani il profilo del DNA del killer che il 28 novembre scorso, con 35 coltellate, ha tolto la vita al professionista 51enne sotto casa, nel cuore di Chiaia. Oggi intanto la vedova Elena Grande sarà ascoltata dal PM sul caso della morte del suocero Lucio, il patron della famiglia Materazzo, e sulle due inchieste aperte per la sua morte. Una riguarda l'omicidio e una il falso. Per il momento gli esami sono stati secretati e gli investigatori hanno pure già incontrato i legali delle parti. Il difensore di Luca Materazzo, il fratello della vittima che al momento resta l'unico indagato, hanno chiesto ai magistrati la possibilità di congelare i reperti, qualora dovessero servire per ulteriori esami. Adesso la procura potrà chiedere un fermo o le missioni di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per qualcuno che sia ritenuto colpevole o abbia un DNA compatibile con quello ritrovato sulla tuta e sul coltello da sub. La procura probabilmente aspetterà che trascorra la giornata di oggi dopo aver risentito la vedova e fatto tutte le valutazioni del delicatissimo caso. Luca Materazzo ha un alibi forte, è stato visto in un ristorante e pizzeria in Piazzetta Cumana, proprio poco dopo l'ora del delitto. Ci sono altre due piste che gli inquirenti stanno comunque scanaiando, quella del lavoro dell'ingegnere e delle possibili nemicizie nel mondo degli appalti e quella personale. Si lavora sul pc, sulle mail, sulle chat, su tutto insomma possa dare un indizio utile alle indagini. Ma le tracce del DNA non mentono e allora non resta che aspettare la decisione della procura. Armi in una cappella del cimitero di Poggio Reale a Napoli è quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato Monte Calvario con l'ausilio del commissariato Poggio Reale di un'unità cinofila. Molto probabilmente si tratta di pistole e cartucce appartenenti al clan Mazzarella. Le armi erano nascoste in una borsa, tra alcune stracce all'interno di una cappella gentilizia. Il sospetto degli investigatori è che il piccolo arsenale sia costituito dalle armi utilizzate dagli affiliati al clan in tutti gli episodi criminosi venuti alla luce in questi ultimi anni. L'attività investigativa è concentrata sulla proprietà della cappella e degli eventuali legami con il clan Mazzarella. E cambiamo argomento, la vertenza Alma Viva ancora non si sblocca, è in corso una trattativa d'oltranza ma i licenziamenti per oltre 2.500 lavoratori ormai sono vicini. Vediamo il servizio. La vicenda Alma Viva non si sblocca, il destino dei 2.511 lavoratori è ancora incerto. Il governatore ha tentato una soluzione, un lodo da prendere o lasciare. Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda con la viceministra Teresa Bellanova ha incontrato i rappresentanti di Alma Viva Contact, la società dei call center e i sindacati di categoria dando loro la disponibilità a scrivere un lodo non negoziabile al fine di comporre l'avvertenza che le parti stesse non sono finora riuscite a risolvere. Alma Viva ha risposto con un sì condizionato con cui accoglie la disponibilità del governo e ne apprezzo il significato ma riservando agli amministratori dell'azienda la valutazione dei contenuti del lodo tenendo conto dell'esigenza imprescindibile di garantire la continuità economica aziendale. Dai sindacati arriva una quasi bocciatura, la proposta viene ritenuta irricevibile perché a scatola chiusa. Al contrario verrebbe presa in considerazione se fosse possibile discuterne o perlomeno sottoporla al giudizio dei lavoratori. Anche noi abbiamo dato la nostra disponibilità ma prima di esprimere un parere volevamo consultare i lavoratori sui contenuti, ha spiegato Giorgio Serao, segretario nazionale della Fistel CISL. In definitiva si tratta di due no perché l'obiettivo della proposta del Ministero data l'estrema inconciliabilità delle posizioni delle parti era quello di stabilire le condizioni ponendo termine alla discussione che va avanti da mesi e che si è rivelata infruttuosa. Intanto domani è prevista la conclusione della procedura di messa in mobilità con la possibilità di far partire le lettere di licenziamento per gli 843 lavoratori di Napoli e per i 1668 di Roma. Andiamo a Salerno, lucida artista, è un evento internazionale, spiace che De Magistris lo usi per la sua battaglia politica contro De Luca. Così il presidente della Commissione Cultura di Salerno, Ermanno Guerra. Sentiamo. Settimane passate a stuzzicarsi tra veleni e battute al vetriolo il finanziamento da 3 milioni di euro concesso dalla regione a lucida artista a Salerno ha sollevato le ire del sindaco di Napoli Luigi De Magistris che in più di un'occasione ha incrociato le lame con il governatore Vincenzo De Luca. I casce per Emanuele Arcuri prima e Antonello Venditti poi che si esibirà in piazza Mendolo a Capodanno hanno sollevato un polverone. Ma il presidente della Commissione Cultura del Comune di Salerno, Ermanno Guerra, non ci sta e replica seccamente alla fascia tricolore partenopea. Intanto mi pare che anche il successo di quest'anno di lucida artista racconti di un evento di tipo ormai nazionale e internazionale. In nessun'altra occasione noi saremmo stati in grade di immaginare solo un afflusso turistico di questa portata in città. Presidente, tra i più duri critici di questa edizione di lucida artista è stato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris che non ha perso occasione per punzecchiare il governatore. Non c'è il rischio che la Kermess finisca un po' nella diatriba tra Napoli e il resto della Campania? Non c'è nessuna competizione con Napoli, sarebbe velleitario e stupido competere con Napoli che per fortuna ha un suo bacino di turismo grazie a un patrimonio artistico sconfinato col quale evidentemente Salerno non può competere. Spiace che la battaglia politica del sindaco di Napoli con il presidente della regione si riverberi sulla nostra città e su un'attività che credo solo chi non vuole vedere non ne coglie la portata. Intanto le luci d'artista saranno spente oggi pomeriggio in segno di rispetto per le vittime dell'attentato di Berlino dalle 17.30 alle 18.00 per mezz'ora i addobbi luminosi saranno dunque spenti per un momento di raccoglimento in piazza Flavio Gioia al quale parteciperanno il sindaco Vincenzo Napoli e gli amministratori. Questa mattina a Salerno anche i mercatini natalizi hanno sospeso le attività per un quarto d'ora sempre in segno di solidarietà alle vittime dei attentati di Berlino. Paura questa mattina sul raccordo Salerno-Avellino in direzione nord, un autobus carico di studenti diretti all'Università di Fisciano ha preso fuoco durante la marcia. L'autista ha fermato il mezzo dopo aver visto le fiamme dal vano motore e ha fatto scendere gli studenti sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento a prensione ma per fortuna nessun ferito. Andiamo nel Sannio dove continuano le indagini sulla tragica morte della bambina Maria, la bimba di 9 anni trovata morta in una piscina ormai sei mesi fa. Vediamo. Sei mesi sono trascorsi pensando a ciò che è accaduto. Oltre 180 giorni sono trascorsi da quel 19 giugno quando il suo corpo senza vita era stato rinvenuto nella piscina di un casale a San Salvatore Telesino. Ancora avvolta dal mistero la tragica fine di Maria, la bimba di 9 anni rumena, rimasta vittima in provincia di Benevento di una storia di cui non si conoscono ancora i contorni. L'inchiesta in corso procede per omicidio e violenza sessuale ma fin qui non è stata scandita da novità tali da rimbalzare all'attenzione dell'opinione pubblica perché anche la fisiologica corrispondenza tra le eventuali richieste della procura in materia cautelare e le risposte del giudice chiamato ad accogliere o a respingerle restano confinate nell'assoluta riservatezza. Attenzione puntata dunque ancora sugli indizi. Su un quadro complessivo che consenta di prospettare con la forza della concordanza e dell'univocità possibili presunti profili di responsabilità in una vicenda drammatica centrata sulla terribile fine di una bambina morta annegata che avrebbe anche subito abusi. Un 90enne muore in ospedale dove hanno scoperto fratture datate di cui nessuno si era mai accorto. Antonio D'Ambrosio originario di Campagna in provincia di Salerno è deceduto sabato sera all'ospedale di Eboli dove era arrivato lamentando dolori lancinanti in un fianco. Le radiografie hanno rivelato la presenza di molte fratture, alcune mai curate. L'anziano era ospite della Verdesca, una casa famiglia di Battipaia per anziani. I familiari hanno presentato la denuncia ai carabinieri perché sospettano che l'anziano sia stato mal curato o mal trattato. La Salma è stata sequestrata e si attende l'esito dell'autopsia. A gennaio è la prima udienza sul caso Mastursi. L'ex braccio destro di De Luca accusato di corruzione per i suoi avvocati è un reato impossibile. Scopriamo perché. Mastursi non poteva compiere alcun tipo di reato non avendo alcun potere decisionale sulle nomini in regione Campania. Quel potere ce l'aveva solo De Luca e se De Luca è fuori dal processo allora anche le accusi a Mastursi devono essere archiviate. E' questa in sostanza la tesi della difesa dell'ex capo della segreteria politica del governatore De Luca, Nello Mastursi, accusato di corruzione nell'inchiesta che ha coinvolto anche la giudice napoletana, Anna Scognamiglio, autrice della sentenza con la quale il 22 luglio del 2015 fu sospesa l'efficacia della legge Severino nei riguardi di De Luca. Tutto nacque da un'intercettazione telefonica in cui il marito del giudice, Guglielmo Mann, chiese a Mastursi un incarico di prestigio nella sanità campana, ipotizzando la possibilità di un intervento di sua moglie sulla questione della compatibilità di De Luca. Erano giorni di fuoco per il neo eletto governatore, su cui pendeva ancora la condanna in primo grado per la questione del termo valorizzatore a Salerno, sentenza poi ribaltata in appello con la piena assoluzione. Mastursi si dimise dall'incarico di capo di gabinetto della regione pochi giorni prima che tutta la storia venisse fuori. I suoi avvocati difensori hanno chiesto il rito abbreviato. Insieme a Mastursi arriveranno alla sbarra anche Giorgio Poziello, Gianfranco Brancaccio e l'irpino Giuseppe Vetrano, ex coordinatore delle liste che hanno sostenuto De Luca in campagna elettorale. L'udienza si terrà a Roma nella prima metà di gennaio. Per l'ente idrico vince il centro-sinistra che elegge 16 consiglieri contro i 14 del centro-destra. Ci si aspettava forse un risultato migliore per le liste targate PD, in particolare nei comuni di fascia C, quelli più piccoli, dove la partita è finita in pareggio con l'elezione di 8 consiglieri a testa. Parliamo dell'ente idrico Irpinia-Sanio. Vediamo. La partita per l'ente idrico campano dell'ambito distrettuale Irpinia-Sanio finisce con 16 componenti per il centro-sinistra e 14 per il centro-destra. Questo l'esito dello spoglio avvenuto a Palazzo Paolo V, a Benevento, con il centro-sinistra che si aspettava sicuramente di conquistare almeno un seggio in più. Nei comuni di fascia A, ovvero i due capoluoghi, prevale il centro-destra, che elegge tutti e tre i consiglieri contro i due del centro-sinistra. All'inverso, in fascia B, sono sei consiglieri per il centro-sinistra contro i tre del centro-destra. Parità in fascia C, quella dei comuni più piccoli, con otto consiglieri eletti a testa. Soddisfatto l'assessore all'ambiente del comune di Benevento, Vincenzo Russi. Noi aspettavamo sicuramente di prendere più del 40%, quindi non consentire all'altra lista di avere la maggioranza qualificata del 60%. Se un paio di comuni della fascia B non avessero votato scheda bianca e nulla, avremo preso uno in più anche nella fascia B e quindi con il risultato di sostanziale parità 15 e 15, essendo Benevento capofila, le avremo addirittura vinte. Ma siamo più che fortifatti del risultato ottenuto perché dalla partenza, che tutti citavano, 11, massimo 12, averne preso 14, barra 15. Altrimenti, addirittura, partendo da strasconvitte, le avrebbero proprio stravinte. Sulla metro leggera l'amministrazione comunale di Avellino è pronta ad aprire un confronto per verificare gli interventi necessari per la messa a sistema dell'opera. Le parole del sindaco Foti ieri in consiglio comunale non lasciano spazio a dubbi. Il progetto che stiamo realizzando viene da lontano e oggi c'è effettivamente il rischio che non risponda più alle esigenze della comunità. Per cui, tenendo conto anche delle sollecitazioni dell'opposizione dopo Natale, va organizzata una discussione per raccogliere indicazioni utili all'ente. L'assessore ai lavori pubblici, Costantino Preziosi, chiarisce che ormai non sono più possibili modifiche sul tracciato, ma la concertazione anche con i privati si può aprire sui parcheggi di interscambio a servizio dell'opera. Per quanto riguarda la modifica del tracciato è impossibile, perché ormai la metropolitana leggera, siamo arrivati agli sgoccioli, per quanto riguarda la realizzazione dell'opera. A chi dovrà gestire, sia esso pubblico, privato, poi dopo si vedrà, comunque creare un qualcosa da 360 gradi, non la metropolitana sempliciter, ma collegare a esso anche dei parcheggi eventualmente che possano essere gestiti dalla stessa società. E al consigliere Miro, che ieri ha dichiarato siamo di fronte ad un'opera dall'impatto visivo notevole, una sorta di ecomustro, Preziosi risponde così. Noi dobbiamo rendere utile qualunque cosa, perché comunque sono stati spesi soldi pubblici, quindi che se ne dica che è inutile o non inutile, noi tra qualche mese termineranno i lavori, quindi dovremmo fare in modo da poterla mettere in funzione. Rilanciare l'ASI dell'area nord di Napoli, mettendo al centro l'area industriale di Caivano, le prospettive di sviluppo tracciate dal Presidente del Consorzio, Giuseppe Romano. Sentiamo. Rilanciare la zona industriale di Caivano e ripristinare uno stabile rapporto con il Consorzio ASI. E' questo il senso dell'incontro tenutosi questa mattina con gli imprenditori dell'area nord di Napoli presso l'ASI Center di Caivano. Un brindisi di fine anno trasformatosi in un vero e proprio bilancio delle attività che ha visto per protagonisti il Presidente del Consorzio, Giuseppe Romano, e l'imprenditore Nino Navas, delegato ASI Caivano. Ho voluto fortemente fare qui lo scambio degli auguri per dimostrare come anche quest'area che era completamente abbandonata da oltre un ventennio e che era ormai vandalizzata, possa essere invece recuperata per essere fruibile per le imprese. Sarà un anno di prospettiva dove già dal punto di vista strutturale il Consorzio ha predisposto delle progettualità che verranno approvate su progetti europei e regionali per la riqualificazione dell'intera area industriale. Romano e Navas disegnano gli scenari futuri dell'area industriale partenopea che vedranno l'area ASI di Caivano sempre più centrale nei progetti di sviluppo territoriale. Il programma del 2017 prevede il recupero di tutti e sette gli agglomerati della provincia di Napoli e il recupero per ciascuno di essi di quelle che sono le funzioni essenziali, a cominciare dalla viabilità e dalla pubblica illuminazione per finire alla toponomastica e ai servizi alle imprese. Questo centro sarà il punto di raccordo di tutte le zone industriali, anche perché logisticamente ha la sua valenza, stando proprio al centro di tutte e sette zone che compongono l'ASI di Napoli. Torniamo ad Avellino, l'assegnazione delle aree di sosta. Ieri il consigliere Giordano ha interrogato la Giunta sui ritardi del nuovo bando, ma l'amministrazione tace. Ad Avellino è ormai un giallo il nuovo bando per l'affidamento dei parcheggi. Pronto da quasi 15 giorni, manca ancora però il via libera da parte del sindaco Foti, che pure lo aveva dato per cosa fatta già prima dell'immacolata. La nuova assegnazione durerà un anno, ma i parcheggiatori non avranno le funzioni di prima. Come accade, in altre città si occuperanno della sorveglianza delle aree parcheggio. Intanto però le vecchie cooperative restano alla finestra e anche ieri hanno espresso tutto il loro disappunto in Consiglio Comunale su come il Comune sta gestendo la vicenda, che oltre a mettere a rischio il futuro occupazionale dei parcheggiatori, apre anche un fronte sociale, come evidenzia il consigliere comunale di opposizione Giancarlo Giordano. Ci sono varie questioni. La prima è quella che riguarda il mancato introito al Comune, che è un mancato arricchimento dell'ente. C'è una questione sociale legata ai lavoratori, delle cooperative di tipo B, a cui il Comune aveva affidato questo servizio, e c'è la questione di un'amministrazione che non perde occasione per mettere in mostra la propria sciatteria e il proprio disinteresse per le questioni reali di una comunità che dovrebbe essere governata, ma sembrano dei turisti per caso, qui non sembrano veri amministratori. Giordano ieri sull'argomento ha interrogato la Giunta. Sembrava che Arvonio avesse la soluzione nel cassetto, ha dichiarato ancora, ma non può attuarla perché non è un dirigente. Diteci quali sono le vostre intenzioni, parole testuali, possibilmente qui ed ora. La sua richiesta però è caduta nel vuoto e l'unica risposta che ha avuto è stato il silenzio. Pestum incontra la videoarte, luci e suoni per animare i templi. Da domani fino al 31 dicembre le proiezioni sulle colonne del Tempio di Nettuno. Arte contemporanea e archeologia. Da domani fino al 31 dicembre il Tempio di Nettuno a Pestum diviene la pelle sulla quale la videoartista Alessandra Franco propone un viaggio onirico e sorprendente tra mito e storia. Tutte le sere, dalle 17 alle 19, una proiezione continua in veste le possenti colonne e il timpano del Tempio di Nettuno. Un video rompe il buio della sera e trasforma le architetture arcaiche in uno schermo. Qui si susseguono immagini e suggestioni che si fanno al culto di Hera, la divinità femminile alla quale era consacrata l'antica Poseidonia, e richiamano la storia dell'architettura sacra dalle cenere dei riti arcaici e alla capanna primordiale in legno destinata al culto delle divinità delle origini. Alessandra Franco sfrutta appieno le potenzialità del videomapping, della proiezione cessa agomata su superfici reali dei contenuti filmati, utilizza ed evoca non solo colori, rami che crescono, il fuoco che divampa, ma anche suggestioni sonore e musiche che ricreano atmosferiche mitiche. Il mio è un messaggio iconografico in un video, spiega Franco, sperimentato varie forme, mi sono occupata di graphic motion, ma uscendo fuori dalla rigidità del quadrato del video, riesco ad esprimermi al meglio. Uno spettacolo che difficilmente si può descrivere, spiega il direttore di Pestum, Gabriel Zugtrigel, vogliamo creare emozione e proporre un'esperienza, non proponiamo una illuminazione notturna, ma un racconto realizzato espressamente per Pestum. La Bocconi di Milano con il patrocinio del Comune di Avellino conferirà il settimo premio di laurea a Marco Martiniello, l'incontro si terrà mercoledì alle 18.30 presso il Circolo del Nuoto. Il premio è riservato ad un laureato in Economia, residente nella provincia Erpina, che abbia discusso la tesi negli anni che vanno dal 2013 al 2016. La premiazione sarà preceduta da un incontro dibattito sulla legge di stabilità tra vincoli di bilancio e prospettive. Da oggi l'asilo nido di Via Firenze a Benevento porterà il nome di Carlotta Nobile. Vediamo. Asilo nido Carlotta Nobile. Da oggi si chiama così la scuola comunale di Via Firenze. La struttura al rione Libertà porterà il nome della giovanissima artista beneventana scomparsa troppo presto. L'angelo del violino, come tutti amano ricordarla, è volata via soli 24 anni dopo aver combattuto con coraggio la sua battaglia contro il cancro. 24 anni di una storia straordinaria in cui Carlotta è diventata un esempio di umanità. Questa mattina la cerimonia di intitolazione alla presenza delle autorità cittadine e della famiglia di Carlotta Nobile. L'esempio di Carlotta è necessario, ha detto il sindaco Clemente Mastella, ancora di più oggi in una società che vive di terrore. E Carlotta veglierà sui primi passi dei piccoli dell'asilo perché conosceva l'impegno e la fatica. Con l'amore intorno e la disciplina dentro, scriveva parlando della terribile lotta con il male che l'ha uccisa. Sulle pareti colorate dell'edificio uno dei suoi pensieri più belli, perché ciò che non ferma, forni, e ciò che non recide le radici diventi il punto d'innesto di un meraviglioso paio d'ali. Si chiude qui il nostro telegiornale, vi ricordo che tra pochissimo arriva però il Tg Sport e noi torneremo in diretta, come sempre, ogni giorno alle 15. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Grazie.